Bene, salve, buonasera a tutti e benvenuti, ben ritrovati, anzi dopo la piccola pausa di ferragosto. Oggi le borse europee in pratica hanno chiuso la prima seduta, appunto subito dopo il giorno di ferragosto in territorio negativo. Il DAX chiude a meno 0,32%, l'Ibex a meno 0,82%, il CAC di Parigi a meno 0,47%, il Futsi di Londra a meno 0,38%, il Futsmib invece è l'unico piazza finanziaria europea che chiude al di sotto il punto percentuale, è precisamente a 1,02%. Bene, per quanto riguarda invece i market mover in programma nel corso della giornata partiamo dalla Gran Bretagna con l'inflazione che vira in negativo del mese di luglio registrando un 0,1% su base mensile, mentre alla base annualizzata la variazione si attesta al più 0,6%. Poi dalla Germania l'indice Zev è in netta risalita nel mese di agosto, il termometro appunto che l'indice che misura la fiducia tedesca segna un più 0,5 punti contro il meno 6,8 punti del mese di luglio. Mentre sempre nell'eurozona la bilancia commerciale risulta in surplus del mese di giugno con 23,4 miliardi di Euro in calo rispetto ai 24,5 miliardi del mese precedente. Dagli Stati Uniti invece l'inflazione a luglio segna un più 0,1% con un più 2,2% annualizzato. Domani mercoledì 17 agosto avremo alle ore mezzanotte e 45 tasso di disoccupazione e variazione dell'occupazione della Nuova Zelanda. Poi seguirà alle 10.30 durante la sessione europea la variazione della richiesta dei sussidi di disoccupazione della Gran Bretagna. Poi nella sessione americana si parte alle ore 16.30 scorti di petrolio grigio e poi alle ore 20 abbiamo la notizia più importante della giornata con i verbali della riunione del FOMC. Passiamo ai nostri grafici partendo praticamente dall'euro dollaro dove dall'euro dollaro qua praticamente abbiamo una situazione abbastanza interessante da poter valutare nel corso della seduta di domani o meglio alla chiusura della giornata odierna. Per quale motivo? Perché c'è una buona possibilità, questo indicato soprattutto sia dall'H4 che dal giornaliero, di un movimento short, quindi in una posizione short, potremmo entrare short al mercato, in quanto sul giornaliero abbiamo una falsa rottura di 1.1284, cioè la resistenza 1.1284 praticamente è stata testata dai compratori che si sono spinti praticamente a un massimo 1.13.22 per poi ritornare al di sotto 1.1284, quindi qua abbiamo una falsa rottura, un fake di 1.1284, quindi da qua potrebbero ripartire, potremmo avere una ripartenza ribassista proprio al di sotto 1.1284. La stessa situazione ci viene indicata, vediamo meglio, sull'H4 abbiamo questa butterfly ribassista che si è già formata e proprio sull'H4 vedete abbiamo questa barra di esaurimento proprio nella candela che va dalle 12 alle 16 e poi questa qua dalle 16 alle 18 che si mantiene sotto 1.1284, quindi l'idea fondamentale è questa, quella di andare a verificare se per esempio sotto, eccoci qua, sotto 1.1284, quindi 1.1284, se viene rotto questo minimo potremmo entrare a mercato short. Beh, ovviamente dovremmo aspettare, l'attenzione è quella di attendere cosa succeda a mezzanotte, anche perché diciamo che il mese di agosto la punista operativa è stata un po' complessa, però ovviamente mancano ancora un bel po' di giorni, quindi cercherò di raddrizzare il titolo di appunto fa fronte ai vari inconfinenti che abbiamo incontrato. Passiamo al dollaro yen, vediamo un attimo come siamo messi sul dollaro yen, bene, allora c'è stato questo forte movimento short che poi c'è stato una correzione verso l'alto, quindi un ritorno in cattedra da parte dei compratori, soprattutto nell'ultima parte della seduta. Sull'H4 anche qua abbiamo una situazione abbastanza interessante, perché abbiamo una butterfly, vedete? Questa butterfly alla fine ci dà questa barra di esaurimento, eccola qua, allarriamo un po', eccola qua, vedete? Questa barra di esaurimento dove su questa barra di esaurimento potrebbe, anche qua, potremmo entrare a mercato long, però dobbiamo avere una conferma da parte, appunto dell'euro dollaro, come una conferma da parte dell'azione del prezzo. Per quale motivo la conferma? Perché praticamente il prezzo è cosa ha fatto? Praticamente ha breccato il massimo di questa candela di H4 però è rientrata dentro, quindi fondamentalmente c'è stata una falsa rottura del massimo della candela che va quella là con la barra di esaurimento più importante. Bene, allora, cosa fare? Praticamente a questo punto bisogna attendere cosa succede stasera alla chiusura della candela delle 20 e poi quella delle 24. Vediamo un attimo, perché qua fondamentalmente, quindi in realtà dicevo che in pratica non c'è stata la rottura, il breakout, ma praticamente abbiamo praticamente qua un rientro da parte dei prezzi all'interno della candela, questa qua di colore blu. Quindi ecco perché attendo una maggiore conferma da parte della price action. Quindi vediamo un attimo che cosa succede, però ci sono indicazioni, ottime indicazioni per un long. In questo momento io vorrei vedere se il prezzo riesce a rompere l'ultimo massimo ragione, esattamente 100 V.54. Passiamo ora al cable. Allora, vediamo un attimo se la situazione è diventata un po' più chiara, più nitida. Bene, oggi vedete che il cable ha avuto un buon movimento rialzista, vedete come si è spostato verso l'alto, però siamo arrivati ad un punto importante, cioè su questa zona io vedo più un ritorno da parte dei venditori. Vediamo un attimo cosa succede, poi cerchiamo di vendere, però la situazione qua è un po' particolare, cioè è un po' difficile da analizzare. Ok? Benissimo. Ora invece passiamo all'outcard, praticamente l'unica operazione che abbiamo in macchina, abbiamo ancora a mercato, in quanto fondamentalmente le altre tre operazioni sono state chiuse a profitto zero, perché c'è AU2SD, adesso ne andiamo a vedere prima di AU2CAD. Allora, AU2SD, eccola qua, praticamente, eccola qua, vedete? È stata chiusa, avevo spostato lo stoppolossi a brecchiva, nonostante che poi dopo c'è stato quest'altro movimento short, purtroppo il mese di luglio, il mese di agosto è così, quindi abbiamo chiuso a profitto nullo, euro AUD, allora, euro AUD, anche euro AUD, c'è stato lo stoppolossi che ha preso, che si è chiuso a brecchiva, eccolo qui, e poi abbiamo GBB AUD la stessa cosa, peccato perché, vabbè, comunque, per esempio, questo qua, euro AUD, voglio vedere un attimo domani mattina, vediamo un attimo, bene, qua potrebbe partire un nuovo movimento short, quindi vado a inserire una freccia verso il basso, quindi vediamo un attimo su euro AUD che cosa succede, euro AUD, quindi uno short, però vogliamo avere un attimo di conferma, poi dopo euro AUD abbiamo detto che c'erano, vediamo un attimo, GBB AUD che pure ha chiuso con lo stoppolossi a brecchiva, eccolo qua, eccolo qua, vedete, e niente, purtroppo siamo stati un po', la situazione qua è stata un po' particolare, vabbè, l'unico che praticamente si mantiene, abbiamo una buona posizione AUD CAD, dove in questo momento siamo esattamente, adesso andiamo a leggere, siamo esattamente a 126 punti di profitto, non male per quanto riguarda il mese di agosto, a questo punto che fare? Vado a spostare lo stoppolossi, lo vado a spostare, siamo a 126, lo vado a spostare di 50 punti, eccoci qua, in modo tale da avere già sotto controllo, cioè da avere già 50 punti in tasca, ok? Quindi praticamente in modo tale che riusciamo anche a coprire parte degli ultimi degli stoppolossi che abbiamo preso, appunto, nei primi giorni di agosto, ok? Benissimo, quindi siamo qua, ripeto, ritorno a dire che ho messo il target a 0,90, un po' più sopra di 0,97 e 77, quindi praticamente questo target a me mi vorrà affruttare circa 235 punti, se ci manteniamo sotto 0,99 e 26, praticamente la situazione, vedete, si continua a scendere, il movimento è sempre short, soprattutto nelle ultime 3 candele a 4 ore, perché abbiamo tutti i massimi e minimi dei crescenti, quindi dobbiamo vedere solo qua l'ultima che, anche se la chiusura riesce a riportarsi al di sotto del minimo di 0,98 e 80, uno la vede un po' difficile, però ci sono 8 punti, non è che ci sta un'infinità, c'è una maggiore probabilità che i ribassisti tenderanno a spingere con più forza. Bene, per questo io ho concluso, se ci sono altre operazioni a mercato, però in questo momento sto un attimo, mettendo un attimo in ordine alcune cose, alcune situazioni importanti, la mia strategia, sto un attimo filtrando ancora di più i segnali all'ingresso al mercato, anche perché praticamente per poter rendere sempre più performante tutto, agosto purtroppo la situazione è quella che è, ovviamente mancano ancora 10-12 giorni alla fine di agosto, quindi ci sono tutte le prerogative per poter fare dei buoni gain e poi ovviamente passeremo direttamente al mese di settembre dove ci saranno ovviamente, la situazione sarà molto più semplice, meno caotica di quello di agosto, con maggiore volatilità, quindi molto più semplice da poter tradare. Io vi ringrazio, seguitemi sempre sulla pagina Facebook Tele3 d'Italia e sulla chat Telegram, la chat privata. Grazie mille e buonasera da tutti.